oggi è il 27 gennaio 2023 giorno della memoria noi italiani lo celebriamo dalla 2001 quattro anni prima di tutto il resto del mondo nel 2005 ci fu una risoluzione delle nazioni unite che portò alla celebrazione del giorno della memoria ma dal 2001 in italia lo celebriamo su proposta di un allora deputato furio colombo classe 1931 furio colombo aveva proposto due date una era il 16 ottobre e l'altra il 27 gennaio prevalse poi l'idea del 27 gennaio anche perché mentre il 16 ottobre una data italiana è la data della razzia nel ghetto di roma il 27 gennaio una data internazionale ha a che fare con la liberazione del campo di sterminio di auschwitz e di questo parla anche maus è il romanzo grafico di art spiegelman un fumettista underground americano la mia conferenza si intitola auschwitz e dopo auschwitz perché il fuoco a un certo punto del racconto passa dal padre dalla terribile vicenda dei campi di sterminio al figlio e alle conseguenze anche sul figlio che pure nato nel 1948 è nato lontano dai luoghi in cui si è consumata la vicenda dei genitori è nato a stoccolma in svezia è emigrato piccolissimo negli stati uniti eppure la sua vita è avvelenata da quel trauma vissuto dai suoi genitori e mai definitivamente guarito la madre di art spiegelman si suicida nel 1968 senza lasciare una riga senza lasciare una parola detto questo mi piacerebbe dirvi dove si svolge questa storia ci tengo molto a farvi vedere questa cartina ed è bella e interessante perché non solo colpo d'occhio vi fa vedere tutto questo racconto intanzitutto c'è un padre che racconta un figlio un figlio giovane che come vedete ascolta suo papà stando sdraiato per terra mentre il papà in poltrona sembra un rapporto positivo quello fra padre e figlio non è esattamente così però bisogna dire una cosa che nota lo stesso archi e cioè che questo questo lungo rapporto con il papà che racconta crea finalmente tra di loro che sono molto distanti vivono in due in due bolle separate crea comunque fra di loro una certa intimità che in qualche modo li aiuta come vedete al centro di tutto c'è la polonia perché questa vice si svolge in polonia ma non in una polonia ma polonia è un paese molto grande vi ho cerchiato la zona della polonia entro cui si svolge questa storia e cioè tra cesto cova e katowice l'altra città importante sosnovic perché è lì che vladek incontra ania lì si sposano lì mettono su famiglia gli nasce un figlio e vicino a katowice come sapete sorge il campo di auschwitz auschwitz è il nome tedesco di una cittadina polacca che si chiama oswiecim il padre vladek dice che aveva dei rapporti d'affari con della gente di oswiecim perché come vedremo è un è un abile venditore lavora nel settore dei tessuti e lui ricorda oswiecim prima della guerra e prima di che diventasse il campo di auschwitz è una bella cartina anche perché vi fa vedere la dislocazione dei campi di sterminio c'è il mio vedete in alto a ovest verso est rispetto a varsavia qui si coglie la divisione della polonia al momento in cui al primo settembre 39 le armate tedesche entrano nel territorio polacco polonia viene divisa in due una parte finisce sotto l'unione sovietica e quella parte verde a destra verso est una parte finisce dire diventa direttamente territorio del reich per esempio sarà il caso di sosnoviec è direttamente nel reich di cesto cova che direttamente è reich e poi c'è un protettorato del reich che è quella parte in verde militare diciamo dove c'è la capitale varsavia infine rego park che è il luogo dove si svolge la storia raccontata cioè dove il padre vladek racconta al figlio arti è un rego park è un quartiere dentro quince quince è uno dei distretti che compongono new york manca un altro luogo che è stoccolma di cui vi parlerò presto stoccolma è il punto è la città dove vanno a vivere dopo auschwitz i genitori di i genitori di arti e dove arti nel 48 nasce nasce così malmesso sua madre era reduce da da auschwitz suo e suo padre anche e nasce così malmesso che i medici pensavano non sarebbe vissuto lo racconta vladek perché sono a stoccolma questi questi due reduci dal campo di auschwitz per due ragioni ma la prima è quella principale ed è che in polonia per loro non c'è più niente hanno perduto tutta la famiglia tutta e questo è uno dei componenti uno degli elementi del trauma di del figlio è un tema che ritorna spesso nelle testimonianze dei figli dei sopravvissuti cioè la generazione successiva a un certo punto tutti dicono noi ci siamo resi conto fin da bambini che eravamo bambini un po strani perché non avevamo parenti non avevo cugini io non avevo cugini non avevo zii non parliamo dei nonni soprattutto non avevo le fotografie come mai non ci sono le fotografie di queste persone è un tema che ritorna molto spesso questo ed è uno dei temi che il racconto di maus tocca e che tocca particolarmente arti il giovane che nasce nel 48 non si rende non può rendersi conto per un bel po di anni di quello che succede attorno che è successo attorno a lui ma si domanda dove siano i suoi zii perché vuole andare perché sono a stoccolma l'altro motivo è che non essendoci più niente in polonia per loro non essendoci più famiglia non essendoci più l'uomo hanno perso anche tutti i loro beni appena provano a dire qualche cosa a rivendicare la proprietà del rivendicare le proprietà che sono state loro sequestrate ecco che l'ambiente si fa particolarmente ostile e qualcuno viene anche ucciso i polacchi non smettono di uccidere gli ebrei quindi siccome la famiglia di ania era una famiglia di industriali tessili ania si guarda bene da rivendicare il possesso della fabbrica e loro e loro le loro proprietà quindi giudicano più saggio emigrare emigrano in perché ci sono per emigrare negli stati unitiani e vuole andare negli stati uniti perché ha un unico fratello sopravvissuto là negli stati uniti per un puro caso una pura pura fortuna quando scoppia la guerra nel 39 questo fratello si trova negli stati uniti con sua moglie perché partecipavano una fiera vi ho detto che erano industriali tessili di conseguenza è rimasto lungo tutta la guerra negli stati uniti e si è salvato bene ania vuole andare non ha più nessuno e vuole insistentemente andare a vivere negli stati uniti per entrare negli stati uniti ci sono delle quote di emigrazione di immigrazione da rispettare da stoccolma è più facile decidono di andare a stoccolma lì nel 48 nasce il loro secondo figlio un secondo figlio che non ha mai conosciuto il loro primo figlio poi c'è un'altra cosa che questa immagine già vi fa vedere arti e suo padre sono topi maus racconta fatti veri e già questo differenzia il fumetto underground o se preferite il romanzo grafico il graphic novel dal fumetto classico arti scrive una storia vera però i suoi personaggi sono animali che è un modo di raccontare della favola non certamente non è un modo realistico agli animali sono attribuiti sentimenti umani non è una novità per la letteratura è un classico della letteratura vogliamo scomodare esopo nella letteratura greca vogliamo scomodare fedro nella letteratura latina mi viene in mente il signor di la fontaine naturalmente siamo nel diciassettesimo secolo e per venire vicinissimi a maus dovrei citare george orwell la fattoria degli animali quindi il nostro amico spiegelman sta molto 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 lontano pur raccontando una storia realistica decide di stare lontano dai modi del racconto realistico si rende conto e poi lo capisce bene lavorando che parlare della Shoah è quasi impossibile se la si volesse rappresentare in maniera realistica il discorso sarebbe insostenibile tale è l'orrore tale è la mostruosità dell'accaduto per poterne parlare occorre crearsi una distanza crearsi una sorta di protezione una distanza di protezione il fatto di rappresentare gli attori umani sotto sembianza animale aiuta precisamente questo scopo è un'osservazione unanime della critica a maus ritorniamo sulla slide della sala da ballo vladek e ania che danzano in primo piano sono topi ma ci sono dei gatti ci sono delle rane ci sono dei cani ed è così che in maus sono distribuiti i personaggi gli ebrei sono tutti topi i nazisti sono gatti i francesi sono rane gli americani sono cani i polacchi maiali questi personaggi servono a creare a dire l'indicibile a dire l'enormità senza banalizzarlo Art Spiegelman fa un'osservazione importante a un certo punto dice i mezzi che erano bravi persone quando glielo raccontava sua madre i mezzi non avevano idea dell'enormità di quello che era accaduto c'è un problema di cui Art Spiegelman è subito cosciente nel momento in cui comincia a raccontare quello che gli ha detto suo padre quello che gli ha raccontato suo padre e cioè che è una storia talmente talmente fuori del comune al di fuori nelle normali esperienze umane una storia di una tale brutalità capite non è soltanto la brutalità del Lager come luogo antidemocratico come luogo di detenzione dei detenuti di quelli che sono manifestano opposizione al regime qui non è solo questo qui si tratta di un luogo concepito per mandare a morte milioni di persone concepito con una logica industriale gli studi poi più recenti sulla conferenza di Van Zee che decide la soluzione finale del problema ebraico eccetera raccontano documentano questo fatto ma nel racconto dei sopravvissuti c'è questo fatto c'è questa enormità ed è questa enormità che ha protetto per lungo tempo i carnefici e il fatto di non parlarne di questa enormità ha costretto le vittime a un periodo di silenzio e di non rielaborazione di questo grave trauma subito questa prima tavola contiene già in noce tutti i temi del racconto e soprattutto un tema il tema del conflitto tra Vladek il padre e Arti suo figlio prima prima di Dascalia prima prima narrazione in alto non eravamo molto uniti e ancora non andavano d'accordo Vladek la sua seconda moglie è Mala Mala è una sopravvissuta anche lei al campo di Auschwitz ha sposato Vladek dopo la morte di Ania si conoscevano benissimo poi emerge già anche un'altra caratteristica che mi sembra importante di questo racconto il modo di parlare di Vladek come parla Vladek abbiamo visto Vladek che rimprovera Mala perché dice tu dai lui tu gli dai qualche cosa che la rimprovera perché lei ha usato una gruccia di metallo invece che una gruccia di legno non lo so che dire è un motivo di polemica per lui vi dice il carattere spigoloso aspero di questo personaggio e in tutto il suo modo di parlare c'è un c'è è un modo di parlare pieno di sgrammaticature la traduttrice italiana dice che cerca di rendere in questo modo il parlare di Vladek nell'originale inglese che non è proprio un inglese è il gergo parlato dagli immigrati ebrei dell'Europa orientale che sono di lingua edish quindi lei cerca di renderlo in questa maniera perché secondo lei dice e credo che abbia ragione proprio da questo parlare sgrammaticato emerge l'emozione di quello che Vladek sta raccontando ed eccolo Vladek qual è il carattere di Vladek Vladek ha un carattere molto ha un carattere complesso Mio padre sanguina storia è il titolo di questa della primo albo del primo volume del racconto che si intitola Maus Mio padre sanguina storia è la storia a fare il carattere di Vladek Arti lo ricorda nel dopo Auschwitz e lo abbiamo visto anche noi nella prima vignetta è un carattere rissoso polemico spigoloso aspro spinoso non so come definirlo altrimenti dalla storia emerge che è un personaggio autoritario in modo è l'autoritarismo dell'egocentrico direi più che l'autoritarismo di quello che vuole imporsi a tutti i costi è avaro a un certo punto Arti dice mi dispiace ma mio padre sembra confermare lo stereotipo del ebreo assolutamente taccagno è avaro sembra paperon de paperoni molto spesso in tutto il racconto che in Maus emerge è persino razzista a un certo punto in macchina con suo figlio Arti e la moglie di Arti che si chiama Françoise sono andati a fare la spesa in un supermercato ma al ritorno vedono un nero che fa l'autostop Françoise che alla guida si ferma per farlo salire Arti è scandalizzato dice i neri rubano tutto non capisco perché lo avete fatto salire e i due Arti e sua moglie sono soprattutto la moglie di Arti è stupita di questo comportamento da parte di un ebreo Vladek è anche ansioso e ipocondriaco guardate come conta le pillole la più parte sono vitamine sono sei pillole per il cuore per il diabete 25-30 pillole per le vitamine dice Arti che di suo padre lui vuole dare un racconto a tutto tondo un racconto completo è una vittima Vladek ha subito quello che ha subito ma non è un santo insomma non è un personaggio interamente positivo i suoi pregi e i suoi difetti i pregi non lo so come li volete giudicare per me io mi sono divertita è un uomo dotato di un solido senso pratico sarà che una qualità che a me piace molto è un uomo particolarmente duttile nell'adattarsi alle condizioni dell'esterno la duttilità è un anche questa è una qualità che mi piace molto è un grande venditore vende di tutto e viene viene da una famiglia molto povera ma lui fin da giovane fin da giovanissimo guadagna piuttosto bene e vive bene quando arriva a Stoccolma la prima cosa che fa è andare dal proprietario di un grande magazzino per proporsi appunto come venditore e il proprietario di questo grande magazzino dice che non lo può assumere perché insomma stanno i tempi sono difficili è già al completo insomma non ha la possibilità di dargli un lavoro dice poi ho i magazzini pieni di roba che la gente non vuole più che roba è chiede Vladek e lui gli dice sono calze da donna a gambaletto le donne non le vogliono più vogliono tutte le calze lunghe di nylon e queste calze vecchie non sono non le vuole più nessuno e Vladek dice io sono in grado di venderle se le vendo tutte lei mi prende come socio e così è suo cognato negli Stati Uniti ha una fabbrica di calze perché loro erano industria della famiglia della moglie sono industriali tessili e hanno una fabbrica di calze quindi il fratello di Ania negli Stati Uniti trapiantato negli Stati Uniti fin dal 39 ha una fabbrica di calze sinché Vladek compra una grossa partita di calze di nylon dal cognato le offre in giro nei negozi di Stoccolma ha un prezzo ragionevole non ha un prezzo stratosferico mette però come condizione che l'acquisto delle calze di nylon sia accompagnato da ogni paio un paio di gambaletti così e così riesce a vendere tutta la giacenza di quel magazzino è un grande venditore è un grande è un grande commerciante del commerciante alle caratteristiche alle caratteristiche le stimmate vorrei dire la capacità di calcolo non parlo solo del calcolo economico ma proprio del calcolo inteso come capacità di costruzione di un algoritmo ho uno scopo devo arrivare in un determinato punto quale strada devo quali azioni devo intraprendere per ottenere quello scopo con molta lucidità un'altra vignetta che mi ha fatto molto ridere è quella del primo invito di Vladek a casa di Ania la famiglia di Ania è una famiglia molto ricca arriva Ania lo fa entrare lo presenta ai suoi poi non so per quale motivo lo lasciano solo cioè non ci sono i genitori di Ania Ania dice che deve andare in cucina a dare una mano e lui rimane da solo in una stanza dà un'occhiata all'armadio che trova in quella stanza perché vuole vedere se Ania se è un armadio ben ordinato sarà ben ordinata Ania perché a lui piace una casa ben ordinata e ben tenuta trova delle delle pillole dentro questo armadio ne prende nota accuratamente perché pensa non sarà che Ania è ammalata se è ammalata cosa mi può servire c'è l'aspetto meschino naturalmente c'è il coté meschino di questa qua però c'è anche un coté c'è un lato divertente mi dice la mentalità pratica dell'uomo d'altronde questa mentalità pratica emerge con assoluta evidenza in Lager dove tutte le sue qualità di debrouillard come dice Primo Levi emergono con tutta la loro forza non crediate che siano queste qualità ad avergli permesso di salvarsi la vita sia chiaro che non sono sopravvissuti migliori da tutti questi racconti da tutti dei sopravvissuti emerge che quello che quello che fa la sopravvivenza è un fatto casuale è stata una questione di fortuna però le caratteristiche di un carattere le qualità di un carattere le sue le sue peculiarità emergono precisamente nel momento più critico e più difficile e questo è Vladek poi l'altra l'altra figura è quella di Ania sappiamo molto meno di lei perché Ania non c'è più ha scritto dei diari sul periodo di Auschwitz ma i diari non esistono più quindi di lei sappiamo molto poco sappiamo però che soffre di depressione quelle pastiglie che Vladek trova nel suo armadio viene a sapere poi sono pastiglie per le persone che hanno problemi di nervosismo di eccessiva magrezza è molto magra Ania è una gran bella ragazza la vedete nella sua foto con pelliccia manicotto viene da una famiglia molto ricca ma è una ragazza che tende alla depressione quando ha il primo figlio Ania pesa 39 chili il suo bambino Rischione pesa 3 dopo il parto Ania non si riprende il parto è stata una cosa troppo faticosa per lei qui per esempio vedete una caratteristica di Vladek che non vi aspettereste Vladek lascia la direzione della fabbrica sistema le cose in modo da poter andare con sua moglie perché sua moglie deve essere ricoverata in una clinica per malattie nervose in cecoslovacchia ha bisogno di distendersi ha bisogno di avere suo marito accanto a sé lui sistema le cose in fabbrica sistema trova una governante per il suo bambino eccetera e parte con lei come sopravviva depressa come in Auschwitz quando ha detta delle compagne di una di una detenuta ungherese che l'aiuta e che Vladek ricompensa abbondantemente Ania in Lager divide il pochissimo cibo che ha con le aggiunte che le procura suo marito Ania sopravvive dividendo il proprio cibo con le altre con le compagne di prigionia perché lei non ha mai fame e il dopo Auschwitz è un comunque un periodo di grande depressione soprattutto dopo la morte del fratello suo fratello muore negli anni sessanta metà degli anni sessanta per un incidente d'auto Vladek commenta che Ania ha cominciato a morire un po' al momento della perdita di suo fratello Veniamo ad Arti Arti dice io cerco solo di fare un ritratto accurato di mio padre cerco di essere equo senza nascondere la mia rabbia verso di lui diceva che non sapevo fare niente bene come lui questo è il problema la svalutazione continua del papà nei suoi confronti che lo conduce al fumetto al disegno perché il papà non sa disegnare quindi lì non si deve misurare col papà questo è quello che dice Arti su Arti pesa il fantasma di Richard è il figliolino che i due Vladek e Ania hanno avuto nel 37 Arti commenta scherzosamente col papà la nascita del fratello maggiore gli dice gli chiede se fosse dato che si erano sposati in febbraio il bambino è nato in ottobre gli chiede se per caso non fosse settimino è il primo motivo di confronto tra i due fratelli in realtà quello più malmesso è proprio Arti che appunto nasce così provato da suscitare molti dubbi sulla sua reale possibilità di vita invece sopravvive ma su Richer vale la pena di leggere la vignetta una foto di Richer si è salvata e stava appesa nella camera da letto di Vlade Cheania di questa foto parlano ora mentre sono in macchina Arti e sua moglie Françoise pensavo che fosse una tua fotografia ma anche se non ti assomiglia certo questo è il punto risponde Arti e sua moglie non avevano bisogno di una mia foto in camera loro perché io ero vivo la foto non faceva mai capricci non si cacciava nei guai era un bambino ideale e io un rompiballe non potevo competere non parlavano di Richer ma la foto come era come un rimprovero per me lui sarebbe stato lui sì che sarebbe diventato un dottore avrebbe sposato una ricca ragazza ebrea lo stronzo ma almeno commenta scherzosamente François ma almeno avremmo rifilato Vladek a lui è mancato la comprensione dell'enormità dei fatti accaduti nel lager restituisce equilibrio a Arti in un primo tempo la rabbia si sostituisce alla rabbia si sostituisce un senso di colpa perché quindi c'è il grande successo il tavolo da disegno di Arti poggia su uno stuolo di cadaveri è lo psichiatra che aiuta Arti a comprendere che al fondo di Vladek al fondo del suo conflitto con Arti stesso c'è il suo sentimento di vergogna per essere sopravvissuto a Richeux è la perdita di Richeux che Vladek non si perdona Vladek è stanco di raccontare va a letto assistito da suo figlio Arti e sono stanco di parlare Richeux buonanotte Richeux grazie a tutti Grazie a tutti.